Ciao, buona giornata, ti voglio leggere un pezzettino estratto da un libro di Ernest Hemingway. Io non l'ho conosciuto personalmente, però conoscevo Fernanda Pivano. Adesso metto una foto, lei è quella che traduceva i libri di Ernest Hemingway in italiano. Lui è stato anche in Italia ed è considerato uno dei più grandi scrittori del secolo scorso. E lui ha scritto una cosa che vi leggerò, ero indeciso se chiamarlo per chi suona la campana, poi vedete alla fine perché, però mi è piaciuto di più siamo tutti avvisati. Invece di raccontarlo voglio proprio leggere quello che lui ha detto. Siamo in campagna e un topolino attraverso il buchino del muro, il topolino guarda il contadino e la moglie che tornano e aprono un pacchetto. Il topolino pensa, chissà che cibo ci sarà, no? Si chiedeva al topolino che rimane sconvolto nel vedere che era una trappola per topi, era una trappola per lui, per prenderlo e ucciderlo. Allora che cosa fa? Vedendo il pericolo, il topolino, intelligente, generoso, il topolino fece il giro della fattoria avvisando tutti. C'è una trappola per topi in casa, c'è una trappola per topi in casa. Qui Hemingway è bravo a scrivere. Il pollo alzò la testa e disse, signor topo, capisco che è una cosa grave per te, ma io sono un pollo, a me non mi riguarda, no? Non mi preoccupo affatto. Allora il topolino andò dal maiale dicendogli, attento c'è una trappola per topi in casa, c'è una trappola per topi in casa. Il maiale, con empatia, era un po' più affettuoso, dico io, non è che c'è scritto del pollo, Hemingway dice, il maiale con empatia disse, mi dispiace molto, signor topo, ma non c'è nulla che io possa fare, eccetto pregare. Ti assicuro che sarai tra le mie preghiere. Pensa che Hemingway fa pregare il maiale che prega per la vita del topolino. Il topolino allora andò dalla mucca per avvisarla, no? Volevo avvisare tutti quelli che vengono alla fattoria. C'è una trappola per topi in casa, c'è una trappola per topi in casa. La mucca lo guarda, no? E gli dice, oh signor topo, mi dispiace per te, ma a me non disturba. Cioè, la mucca vedendo il topolino e immaginando quanto è grande la trappola per topi, gli dice che no. Allora il topolino tornò in casa con la testa bassa, molto scoraggiato, per affrontare da solo la fattidica trappola. Durante la notte sentirono uno strano rumore che cheggiò per la casa, come quello di una trappola che afferra la sua preda. La moglie del contadino si alzò subito per vedere cosa avrebbe trovato nella trappola. Nel buio non vide che era un serpente velenoso con la coda bloccata nella trappola. Lei pensava che era invece, dico io, pensava che era il topo, no? Lei si è avvicinata alla trappola, il serpente morsicò la moglie del contadino e lui dovrebbe portarla d'urgenza all'ospedale con la febbre alta. Come molti sanno, nella cultura contadina la febbre si cura con una zuppa di pollo fresco. Quindi il contadino con il suo coltellone uscì nel pollaio per rifornirsi con l'ingrediente principale della zuppa. Cioè il contadino, dico io, ammazza il pollo e fa il brodo di pollo per portarlo alla moglie poverata all'ospedale. La malattia della moglie però non passava e così tanti amici vennero a trovarla per starle vicino e andavano a trovare il contadino. Allora la casa, dice Hemingway, era piena per nutrire tutti il contadino dovette macellare il maiale. Il maiale era quello che dice mi dispiace pregherò per te invece muore. Il maiale. Ben presto, Hemingway, ben presto la moglie morì e tanta gente venne al suo funerale. Tanto che il contadino dovette macellare la mucca per offrire il prezzo a tutti. C'era l'abitudine contadina che bisognava dar da mangiare dopo il funerale. Allora lui ammazza prima del funerale di modo che alla carne è morto il pollo per il brodo, è morto il maiale per quelli che andavano a trovare la moglie. È morto la mucca, uccisi, perché è arrivata un sacco di gente, no? Contadino conosceva un sacco di gente, no? Il topolino dal buchino del muro guardò il tutto con grande tristezza. Lui ha visto tutto. Perché il serpente voleva mangiarsi il topolino e invece si è avvicinato e gli è rimasta la coda nella trappola per topi. Il topolino aveva visto. Il topolino dal buchino del muro guardò il tutto con grande tristezza. Adesso Hemingway non parla più della storia e dice la prossima volta che sentite che qualcuno sta affrontando un qualche problema e pensate che non vi riguardi, sta parlando ai lettori, ricordate che quando uno di noi viene colpito siamo tutti a rischio. Siamo tutti coinvolti in questo viaggio chiamato vita. Oh, parla come gli yogi, eh? Hemingway, Ernesto, eh? È simpatico, eh? E qui arriva la campana, no? Prendersi cura gli uni degli altri è un modo per incoraggiarci e sostenerci a vicenda. E qui la famosa campana di cui avete sentito, quando senti suonare la campana non chiederti per chi suona, essa suona anche per te. Cos'è sta storia della campana? Che una volta non c'erano le sirene, non c'erano gli allarmi via telefonino, suonavano le campane. In caso di pericolo, alluvioni, incendio, i ladri, brigate, suonavano le campane, davano l'allarme. Quindi per chi suona la campana? Non pensare per chi suona, suona anche per te. Quindi la storia del topolino, eh? A me è piaciuta. Rinnovo anche oggi un invito che sto facendo. Dobbiamo mantenere. In Africa costruiamo dei pozzi con un amico, poi vi farò vedere le foto un giorno, perché l'acqua sta sotto e quindi se non facciamo il pozzo con la pompa non bevono. Quindi un pozzo 5.000 euro si dà da bere, perché poi le malattie non vengono dal mangiare, vengono dall'acqua che non è potabile. Quindi se comprate questi due libri che ho scritto io, che non trovate in libreria, che sono autobiografici, sono questo il primo, incontro con la chiara luce, il grande viaggio di andata e ritorno dall'aldilà. E cosa dico in questo libro? Che io sono uno spirito libero che viaggia eternamente nell'infinito, nell'infinito presente, nel grande viaggio. La mia vita, quindi anche la tua, non ha mai avuto inizio e la nostra vita, la mia, la tua, non avrà mai fine. Io sto vivendo un'esperienza umana sul pianeta Terra, anche tu stai vivendo un'esperienza umana. Poi in questa incarnazione il mio nome temporaneo, Giorgio Cerquetti, il tuo è tuo. Allora, amore sempre, ovunque, con gioia e con amore, il grande viaggio della vita continua. Allora qui riprendo Hemingway, che dice, siamo tutti coinvolti in questo viaggio chiamato vita. Assomiglia? Beh, avevamo un'amicizia cara in comune. La traduttrice, Fernanda Pivano, era sia amica sua che mia, solo che Hemingway appartiene a un periodo storico un po' precedente al mio. Quindi questi due libri, se li volete, mi fate un regalo a me, scrivete qua e siamo tutti avvisati che la cosa migliore è che ci sia...